cari amici dentro di sul canale andiamo a leggere come altra volta abbiamo fatto in passato un episodio una un issue della di questa rivista su su gli investimenti immobiliari sul mercato immobiliare inglese questo è febbraio 2024 ci sono un paio di punti interessanti che volevo leggervi condividere sulla situazione immobiliare e anche sulla situazione demografica sulla crescita sulle aspettative di crescita della popolazione in questo in questo paese che ho trovato molto interessanti pensavo meritevoli di video iniziamo a leggere l'editor comment dove leggiamo che nel 2023 c'è stata una riduzione del 44 per cento delle della registrazione di nuove case quindi questo vuol dire che rispetto al 2022 nel 2023 sono state registrate la metà delle case mettiamo che nel 2022 sono state 200 mila le new house e new build registrate nel 2023 la metà quindi questo ovviamente aumenta il problema della mancanza di immobili perché l'inghilterra se non lo sapete il regno unito vive di questa bolla immobiliare causato principalmente dalla dallo shortage dalla basso numero di immobili disponibili a un'alta popolazione se non si costruisce abbastanza ci sarà sempre una domanda su molto superiore all'offerta e quindi come vediamo 2023 hanno costruito ancora meno new house new homes va bene infatti l'articolo poi continua dicendo dato che il regno unito ha visto un aumento della popolazione di 1,25 milioni nella netta immigrazione negli ultimi anni questi numeri ci dimostrano perché la crisi immobiliare la housing crisis e potrà solo peggiorare come vi ho detto pochi secondi fa la richiesta di affitto è stata è aumentata ho sentito molti aneddoti di landlord e altri che di come gli affitti continuino a salire anche in linea con l'aumento dei costi degli interessi bene l'aumento nel costo dell'affitto sta impattando inevitabilmente anche il mercato delle case e c'è housing multiple occupation quindi quelli dove ti affitti solo una cameretta le shared house dove le stanze gli affitti delle stanze in molte città sono aumentati significativamente e c'è un'altissima richiesta di persone che vogliono affittare stanze e vi aggiungerò di più parlavo l'altro giorno con un amico umano il che sta a nottingham lì vicino mi diceva che ormai a nottingham una shared house in una single room una double room che una volta costava 350 400 al mese adesso costa 550 600 siamo arrivati quasi ai prezzi simili quelli di londra fuori di testa fuori di testa ripeto per una cameretta e non per un appartamento per una camera a nottingham non in centro londra 600 pound andiamo avanti andiamo a leggere altre cose dove per esempio c'è un altro articolo dove dice che ci sono sempre più quartieri città che stanno abbracciando l'approccio della property licensing quindi che è una uno schema che obbliga chiunque si voglia affittare appartamenti case eccetera essere registrato a un albo ed essere quindi a ricevere il permesso dal comune e queste nuove città sono greenwich nottingham islington islington è un quartiere di londra warwick e luton voglio vedere come lo faranno a luton visto che luton è il far west luton è un postaccio per chi non conoscesse luton datevi a cercare su youtube qualche video andate guardare che tipo di cittadina e chiedetevi come mai ci ha i prezzi i costi eccetera più bassi di tutto il sud dell'inghilterra voglio vedere come faranno a imporre il registro dei landlord lì dove il far west praticamente comunque l'articolo qua dice rental supply crisis peggiorerà tutto orse a peggiorare due terzi dei landlord dicono che la richiesta di private rented houses continua aumentare ma va private rented houses aumenterà ancora di più alcuni calcoli dicono che ci potrebbero essere un milione di applicanze ci potrebbero essere sì un milione di persone che fra la domanda per studiare in inghilterra solo nel 2030 un terzo di più di quelle che abbiamo nel 2022 quindi questo cosa vuol dire ci sta dicendo che nel 2030 il numero di studenti internazionali che arrivano dall'india dalla dall'australia dalla dalla grecia gente che ha fatto il visto che è stata approvata per studiare nelle università inglesi non quelle italiane quelle inglesi al posto di essere 700 mila persone saranno un milione nel 2030 quindi ci sarà un influsso superiore di studenti che dovranno affittare da qualche parte e quindi anche questo aumenterà il discorso richiesta di stanze camera appartamenti eccetera andiamo avanti e adesso andiamo a questo articolo che è molto interessante dove c'è questo boomer ma forse più che un boomer perché sembra che ci avrà 70 anni 80 dice sarà saranno i futuri inquilini principalmente pensionati adesso senza leggerlo tutto perché lungo praticamente dice che molti di quelli che sono i boomer cioè quelli nati nella dopo la seconda guerra mondiale negli anni 50 60 che adesso cominciano avere 70 anni 80 molti di loro andranno sempre più di loro andranno a affittare invece che restare nella casa di proprietà per diversi motivi e quindi ci sono delle considerazioni a me la parte interessante di questo articolo è che mi hanno lasciato questa cosa mi hanno lasciato con la mascella a terra ma non ci stupisce se ragioniamo insieme è che la regola dell'80-20 si applica alla property wealth nel regno unito cosa vuol dire sapete cos'è la regola dell'80-20 dovrebbe chiamarsi distribuzione di pareto se non sbaglio e che esempio se prendete il vostro guardaroba il 20 per cento dei vostri dei vestiti che mettete l'ottanta per cento voi mettete l'ottanta per cento del tempo solo il 20 per cento dei vostri vestiti questo è un esempio oppure di quello che consumate delle vostre abitudini c'è una piccola parte c'è il 20 per cento copre l'ottanta per cento della richiesta questo sarebbe il fatto no e questa regola adesso la capite è meglio quando vi leggo qui per quanto esof a data 2021 c'erano circa 14 milioni di baby boomer nel regno unito che andassero che avevano tra 57 e 75 anni di età ok va bene e questi lo dei only account loro rappresentano solo il 20 per cento della popolazione questi per 14 milioni di anziani ossia quasi anziani uno sessantenne non lo chiamerei anziano però di certo non neanche giovane questi che rappresentano il 20 per cento della popolazione detengono l'ottanta per cento del nation property wealth quindi tordici milioni di persone in inghilterra nel regno unito scusate se a volte gli user intercambiari detengono possiedono l'ottanta per cento degli immobili della ricchezza immobiliare 13 milioni su 60 65 adesso non mi ricordo il numero preciso sommando tutto quindi un quinto della gente c'è una persona su cinque possiede quattro quinti della delle case bella come cosa no questa è la distribuzione di della ricchezza ed è normale purtroppo funziona così questa disparità di ricchezza tra i baby boomer e le altre generazioni è stata rivelata da un report eccetera la company data mostra che gli over 50 ora detengono il 78 per cento di tutte le uk privately held housing wealth con gli over 65 che sono il gruppo più facoltoso che possiede uno stock che vale valutato 2,7 trilioni di sterline di cui 2 miglia 2 trilioni tr sono tanti due tr sono mortgage free quindi gli over 65 possiedono 2,7 trilioni di sterline di cui 2 non hanno su cui di cui solo 0,7 sono col mutuo il resto li possiedono loro sono tanti soldi da spendere dice la domanda è chi li spenderà prima li spenderanno prima i pensionati che magari andranno a farsi le crociere o li lasceranno ai nipoti ma se li lasciano ai nipoti il discorso dell'eredità eccetera in inghilterra c'è una inheritance tax abbastanza alta quindi poi devono fare un po' di magheggi un po' di robe con i trust per passare la ricchezza ai figli senza farli mangiare al governo e nulla quindi ho trovato molto interessante questa cosa sapere che gli over 65 sono carichi di soldi ma non ci dovrebbe stupire perché una persona che ha 65 anni ha vissuto il doppio di una persona che ha 30 anni ha vissuto negli anni più ricchi di crescita dell'europa e dell'occidente ed è ovvio non ci stupisce che abbia in mano tanta ricchezza certo l'80 per cento ti mette un po' di ansia ti fa immaginare che ci sono questi landlord di 60 70 anni che affittano appartamenti e case a gente di 20 30 40 i quali pagano l'affitto a loro e loro se ne vanno alle maldive tanto non devono neanche più pagarsi il mutuo perché sono la maggior parte di questi trillion sono mortgage free bello è bello sapere che i giovani lavorano per i vecchi e poi cos'altro c'era interessante poi diceva un'altra stima dice che il baby boomer medio ha circa 300 mila sterline in equità immobiliare nel regno unito è uno su sei possiede anche una seconda casa e uno su cinque e milionario quindi di questi 14 milioni da quello che lei dice l'articolo uno su cinque e milionario ma mi pare evidente perché non è che ci vuole molto essere milionario se ti comprivi ti compravi una casa 40 anni fa adesso probabilmente vale un milione di sterline a meno che non fosse un appartamento minuscolo nel nord dell'inghilterra quindi uno su cinque milionario uno su sei c'è anche una seconda casa è quello è la media di tutti è che come minimo hanno 300 mila sterline di valore immobiliare e nulla l'articolo finisce dicendo che gli affitti continuano a salire quattro volte più veloci del prezzo delle case nei prossimi quattro anni poi questi sono numeri un po volte li leggi dici ma saranno affidabili o meno ma sicuramente siamo d'accordo che gli affitti continuano a salire sarà sempre più difficile comprare casa chi non l'ha ancora comprata se può farlo deve darsi una mossa e chi l'ha comprata da un lato è fortunato dall'altro non lo è perché comunque deve affrontare i costi dei mutui molto alti chiudo dicendo che la uk population si aspetta che crescerà e raggiungerà 72 milioni di persone per il 2045 vediamo quanti siamo oggi ok population 2023 siamo 67 milioni quindi c'è una previsto un previsto aumento di 5 milioni circa di persone per il 2045 quindi abbiamo dei paesi come merdalia dove c'è sarà un declino demografico e paesi come il regno unito che avranno una crescita demografica che questa crescita demografica sia dovuta a un influsso di immigranti di persone che non sono inglesi non sono anglosassoni mi pare evidente ma sta di fatto che la strategia dell'inghilterra a quanto pare crescita demografica a differenza di altri paesi come l'italia che hanno un calo qua la gente prende visti per venire a studiare università e venire a lavorare e dall'italia invece se ne scappano anche i nord africani con tutto il rispetto per loro oppure gli asiatici che erano anduti in italia se ne vanno via anche loro quindi questi sono i trend diversi due paesi diversi a confronto problemi diversi e comunque penso che possiamo fare un parallelismo anche in italia gli over 60 ci hanno probabilmente avranno anche il 90 per cento della ricchezza ma è normale ci sta una persona anziana una persona che ha vissuto tanto che ha lavorato ha accumulato non ci stupiamo che sia ricca però insomma c'è un po di ingiustizia nel mondo e nel nostro mondo ce n'è un po troppo forse ci stiamo anche un po rompendo la minchia voi cosa dite spero vi sia piaciuto questo video numeri molto interessanti veramente interessanti ecco un po di più capire il mondo in cui viviamo ci vediamo la prossima state bene ciao